Da Valledoria a Bancali, finisce in carcere il tentativo di furto ieri sera, quasi all'orario di chiusura, nel market Superconcas al centro del paese. Autori due uomini, un ogliestrino 24enne e un napoletano di 31 anni, residenti a Sassari. Per bottino 600 euro di superalcolici raccolti in uno zaino con cui hanno provato a fuggire senza fermarsi alla cassa. A dare l'allarme una commessa del negozio, mentre un cliente provava a bloccarli. Quest'ultimo, attaccatosi alla macchina dei due, è stato trascinato per alcuni metri, riportando diverse escoriazioni. Sui fuggitivi è scattato subito il piano antirapina del nucleo radiomobile dei carabinieri di Valledoria, guidati dal comandante della compagnia Sergio Pagliettini, che ha intercettato l'auto dopo un inseguimento per le vie di Castelsardo. Manette ai polsi per i presunti ladri, trasferiti nella casa circondariale di Bancali, con l'accusa di rapina impropria e lesioni personali. Il cliente, che aveva provato a ostacolare la fuga, è stato visitato dalla guardia medica del paese. Per lui, sette giorni di prognosi.